Mi chiamo Antonio Faccilongo, sono un fotografo documentarista, vivo e sono cresciuto a Roma. Solitamente mi occupo di Medio Oriente ed Asia, negli ultimi due anni ho iniziato anche a occuparmi di una storia di ambiente in Europa e qui al festival ho portato in mostra il mio lavoro a Bibbie, che è la documentazione della storia delle mogli dei biglionieri politici palestinesi che hanno deciso, e con un gesto d'amore, di avere dei nuovi bambini. Mentre, questa è la particolarità, i loro mariti stanno scontando delle condanne molto lunghe nelle carceri israeliane. Per molto lunghe intendo dai 20 anni fino ai 40 ergastoli. Non c'è un momento esatto in cui è iniziata la mia carriera di fotografo. In realtà la fotografia ha sempre fatto parte della mia famiglia, per cui le macchine fotografie erano sempre dentro casa. E sin da un bambino io ci giocavo. Quando il proprietario di queste macchine non era in casa, io entravo nella sua stanza, che era mio zio, e in qualche modo le rubavo per qualche minuto e ho iniziato a giocare con delle macchine in realtà anche molto ambite, come l'Asselblood o la Rolleiflex, delle medio formato quadrate. Questo è il motivo per cui ho familiarità con questo formato. E ho sempre pensato che fosse un interesse, una passione, da bambino ovviamente un gioco. Crescendo ho avuto l'esigenza invece di viaggiare, di scoprire il mondo, quindi andare un po' all'avventura. Questa è la mia grande passione fino all'adolescenza o quando ero un giovane uomo. Dopodiché ho studiato scienze della comunicazione, ho avuto un interesse sempre maggiore per il giornalismo e raccontare storie e ho capito che queste due passioni potevano fondersi nella figura del fotoreporter. E a 26 anni quindi ho deciso, quindi molto in ritardo rispetto a molti colleghi, di provare a migliorarmi, a studiare, a rimettermi in gioco, a non accontentarmi di quello che magari pensavo di saper fare in quel momento e ho ricominciato a studiare. E ho fatto un percorso lavorando e passando per la fotografia di News Locale, quindi ho lavorato per il Messaggero ad esempio, il giornale della mia città, e dopo ho lasciato quella certezza di quello stipendio per provare a raccontare qualcosa di carattere più ampio e internazionale. Quando ho iniziato ad occuparmi di cronaca internazionale nel 2008, un po' penso sia una cosa abbastanza comune tra tutti i fotografi, soprattutto tra i giovani fotografi, ho emulato una serie di altri fotografi che ammiravo e ho iniziato a documentare in modo molto classico gli avvenimenti, ad esempio in Palestina, in riferimento alla guerra e tutte le conseguenze della guerra. Dopo qualche anno mi sono reso conto che questo per me non mi bastava, non mi sentivo realizzato, non sentivo di far qualcosa che in qualche modo appagasse la mia voglia di essere un po' più personale nei miei racconti. E proprio la storia che mostra qui, che ha avuto la mia storia più importante, quella che ha avuto più riconoscimenti, ho capito realizzandola che quello che cercavo era un punto di vista molto più personale e che quello che doveva essere sempre presente in tutte le mie narrazioni, al centro di tutto c'erano i sentimenti non solo degli altri, quindi di chi avevo di fronte da me, dei protagonisti, ma i miei sentimenti nei loro confronti, che in qualche modo io mi devo innamorare di ciò che racconto e che senza questo coinvolgimento personale, senza questo innamoramento per le persone che incontro, non riuscivo e non riesco a esprimermi in un modo che per me è appagante. Quell'empatia quindi che si crea, che viene a crearsi con i protagonisti, poi riesco in qualche modo a trovare un modo che sia diretto o evocativo di inserirlo all'interno del mio progetto. E quindi in tutte le mie storie, da qui in avanti, so che questo elemento ci trova a essere. Il coinvolgimento emotivo mio è essenziale. Ho trovato un'emozione gigantesca la prima volta che ho incontrato questa donna, che era un viaggio per conoscere suo marito. Era la prima volta che la conoscevo. Eppure ho rivisto lei nel suo sguardo, nel suo abbraccio protettivo per il figlio, delle emozioni che mi hanno convolto a un livello così personale che a un certo punto mi sono sentito parte di quella storia. Ho capito in realtà come avrei raccontato tutto il resto del lavoro al secondo viaggio. Quindi non era neanche troppo verso l'inizio, era la fine del secondo viaggio, da quelle emozioni. Questo mi porta anche molto spesso a star male insieme a loro, a star male anche per conto mio, perché in fondo la fotografia ha anche una complessa e bellissima forma di psicoanalisi interiore. E questo coinvolgimento emotivo non ne ho protezione, perché in realtà quello che io desidero fare nelle mie storie è diventarne parte, integrante. In questo caso, in questo specifico, nella storia a Bibbi sono addirittura diventato parte del tessuto familiare di alcune di queste famiglie. Mi sento un membro di loro e loro sentono me nello stesso modo, ci sentiamo quotidianamente. In altre, magari non succede che arrivi così tanto in profondità con le persone, ma sei partecipe del loro destino, sei anche responsabilizzato dal tuo ruolo, di raccontare quella storia e essere la loro voce. Quindi le mie emozioni, i miei sentimenti sono esposti in prima linea. E questo in realtà è esattamente ciò che voglio. Delle volte arriva a un punto così profondo che te lo porti anche nel tuo di quotidiano, non solo quando sei lì con loro, ma quando torni a casa. Qualche anno fa ho deciso di non... Siccome avevo tantissimi lavori e viaggiavo tantissimo, che è un po' l'ambizione di tutti, ed era anche la mia, quando ci sono arrivato ho capito che non era il modo in realtà con cui volevo vivere questo messaggio, volevo raccontare una cosa a un livello intenso, non solo per l'aspetto fotografico, perché volevo essere veramente dentro e vivere un'esperienza profonda con le persone che incontravo. Quindi sono io che in realtà cerco di non avere nessuna protezione rispetto al racconto. E questo, probabilmente, mi espone anche a gioia e dolori di chi incontro e me le porto addosso. Nel mio progetto a Bibbi ho cercato di raccontare allontanandomi da quegli standard a cui siamo abituati, a quel tipo di iconografia e di racconto, di narrativa che viene da questi luoghi in Palestina e Medio Oriente in generale. Ho cercato di farlo in un modo diverso per non rimarcare, riconfermare, quell'immaginario occidentale dell'uomo arabo, di una cultura dura, di una cultura che sembra essere inospitale e per una costruzione molto hollywoodiana. Delle volte sembra quasi che passi nel loro tempo a pensare a come odiare meglio l'Occidente, che è una cosa a cui io non ho mai creduto e che poi, vivendo quei luoghi, ho scoperto essere esattamente il contrario. Ho scoperto che c'è tra noi italiani, ad esempio, ma in generale tra i popoli del Mediterraneo e la Palestina, una grande connessione. Il senso di ospitalità, di solidarietà, di convivialità, di comunità, di famiglia, sono tutti elementi e valori che ho ritrovato anche in quella cultura, che da ciò che viene mostrato solitamente non emerge. Siamo abituati più a vedere le foto in cui i palestinesi lanciano i sassi o purtroppo durante le guerre le foto dei bombardamenti, dei soccorsi e del lancio dei missili, dei palazzi distrutti. Secondo me questo non aiutava a riumanizzare e a ridare dignità indietro a queste persone convolte nella storia e c'era bisogno magari di far vedere un po' di più il loro quotidiano e quei sentimenti, profondi sentimenti che ho vissuto passando del tempo con loro per realizzare questa storia. E quindi ho deciso di raccontare questa storia di questo fantastico modo, di questo meraviglioso modo con cui i bambini nascono e di mettere al centro della narrazione l'amore e immagini delicate che potessero far comprendere meglio le atmosfere che avevo vissuto io in prima persona e che c'è un punto di incontro da tutte le persone nella nostra interiorità. La malinconia che prova una donna per un amore interrotto dalle circostanze e non per ragioni personali. Questo legame che unisce questi papà, questi vigiagnari con i loro figli all'esterno, il senso comunque di appartenenza e quella presenza che vivono nelle case pur essendo lontani. Quindi come conservano il ricordo e il sentimento d'amore con i loro cari. E quindi ho deciso di raccontare questi elementi che su me davano una nuova prospettiva, un nuovo punto di vista e che possono magari essere un piccolo tassello, perché comunque sono un lavoro, sono solamente un fotografo, ma dare il mio contributo per ricostruire una comunicazione tra magari anche questi popoli che forse neanche si ricordano più le motivazioni originali e oggi non riescono più a comunicare e purtroppo spesso si vedono in un modo anche tra di loro stereotipato. Quindi il mio lavoro vuole essere un tentativo di ristabilire una comunicazione fra di loro e magari con la speranza che questi bambini che ho fotografato oggi, anche come io vedo che sono cresciuti dalle loro famiglie, siano un giorno in grado di fare scelte diverse da quelle che hanno fatto i loro genitori. In particolare il bambino che seguo da più tempo, con cui ho un legame d'affetto personale profondissimo, viene cresciuto dandogli, sin da oggi che è ancora piccolo, a sette anni, degli strumenti culturali per poter rivendicare magari di diritti e fare una sorta di resistenza ma non armata, culturale. E quindi per me questo è stato una serie di elementi che mi hanno condotto nel mio lavoro e che vogliono essere una speranza e soprattutto un segno di positività più che una cosa a un certo punto hanno cominciato ad avere la sensazione che l'Occidente non li guarda, non li ascolta e li ha lasciati dal loro punto di vista a morire all'interno di una grandissima prigione a cielo aperto chiusi tra il mare e un muro in un fazzoletto di terra due milioni di persone sotto i bombardamenti senza acqua potabile senza elettricità senza medicine senza il minimo dei diritti che una persona deve avere per vivere una vendita dignitosa appagante. Allora secondo me è importante che ci siano non io ma un insieme di giornalisti fotografi videomaker organizzazioni non governative che continuino a occuparsi di loro e che siano un po' i rappresentanti dell'Occidente che va lì e gli dice non siete soli noi non ci occupiamo di voi e che in qualche modo riporti questa voce anche fuori di quei confini e che loro se ne accorgano che c'è questa comunicazione perché se no se li lasciamo da soli a morire sotto i bombardamenti probabilmente poi la disperazione ti porta a vedere e a provare tutte le soluzioni che la vita ti offre e quindi anche radicalizzazioni che possono essere pericolose immaginiamoci i bambini che crescono in questi giorni un bambino di 15 anni che dal 2008 quindi gli ultimi 13 ha fatto 6 guerre e sono 6 volte sotto i bombardamenti quelli sono i governi quelli sono gli stati non sono i popoli allora noi facciamogli capire che noi siamo che per noi sono importanti che non sono niente che sono realtà umane che non ci siamo che non stiamo ignorando che non li stiamo lasciando morire da soli come se non ci interessasse allora questo già questo sentimento se arriva può contribuire e quello non è lasciato solo a gli addetti ai lavori questo siamo noi come parte dell'umanità a dover non scoddarci degli ultimi se no siamo complici di questa fase grazie a tutti grazie a tutti